E' un calciatore del settore giovanile della Salernitana, il ragazzo di 15 anni ha coltellato sabato scorso al centro commerciale di Casoria. Una lama lo ha raggiunto al fegato, ferendolo seriamente e ora è in prognosi riservata, anche se non corre pericolo di vita. In una nota l'OS Salernitana esprime vicinanza al giovanissimo, rimasto vittima di una vile ed ingiustificata aggressione. L'esempio dei ragazzi per bene, dediti allo sport e con i sani valori della famiglia, non deve essere calpestato da sottoculture di baby gang. La Salernitana sarà accanto ad Emanuele e alla sua famiglia nella speranza che possa uscire presto dall'ospedale e tornare a calcare il Prato Verde, a studiare, a fare le cose normali dei giovani della sua età. Ha rischiato di perdere la vita mentre era in giro con amici e si è ritrovato in preda ad un gruppo di bulli coetanei col coltello in tasca. Queste le parole di Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile della squadra Granata, che farà presto visita al calciatore ferito.